Florencia complimenti per la vittoria, hai chiuso individualmente la partita con 16 punti dando solidità alla tua squadra, hai fatto un grandissimo lavoro in cabina di regia avete vinto soprattutto con vincenno nell'ultimo quarto dove avete cambiato totalmente il ritmo della partita e siete riusciti a portarla a casa. Due parole sul match e sulla tua prestazione Ciao, buonasera, si, veramente è stata una partita tosta, sapevamo da un inizio che sarebbe così doveva essere tanto a tanto e portare il nostro ritmo, quello che abbiamo provato in tutta la partita e siamo riusciti alla fine, però sono felice del lavoro che ha fatto la squadra principalmente il lavoro in difesa, siamo state agressivi, trovando la nostra agressività, il nostro ritmo di gioco era quello che stavamo allenando e siamo venuti per quello, quindi felice per questa vittoria e continuare a lavorare Prossima partita in casa contro Faenza, cosa ti aspetti da quel match? Bene, adesso iniziamo una nuova settimana con nuovi obiettivi che farebbe bene la prossima partita ancora come questa, lavorare sulle nostre cose, ancora la nostra agressività e il nostro gioco e sarei tranquilli e veramente lavorare perché non sarà facile e è un punto importante Grazie mille e buon ritorno a casa Grazie a voi